Benvenuti su TG7 Basilicata. La Task Force regionale comunica che nei giorni 8 e 9 maggio sono stati processati 1.891 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 129 tra questi 126 relative ai residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nelle stesse giornate sono decedute 4 persone, un residente a Balvano, uno a Lago Negro, uno a Policoro, uno a Scanzano Ionico. Inoltre le persone guarite sono 227.